La montagna è andata in maniera nostra premiera, è diciamo che ora siamo in fase di Haralprec, è stata una parte, e Haralprec sta andando nel nostro pollo di Sceos. Ora ci siamo al rededore di un 3 milende che abbiamo fatto in Haralprec e ogni giorno troviamo una quantità di 100 persone che sta andando. Lo che sta andando è molto buono, sta andando nel barrio di Bandabou che sta andando nel barrio, quindi abbiamo meno cobertura. Abbiamo guardato nel weekend che abbiamo trovato una opportunità per andare in Bandabou, per andare in un po' lì, è un po' difficile. In maniera è il weekend, che abbiamo qui, l'Ivoce Sabra, noi stiamo sotto, con il busto di vacuna. Abbiamo apprezzato, abbiamo guardato le informazioni e passano la vacuna. E' diciamo, ci siamo andando, e ora ci siamo in base, ci siamo in futuro, per non può aprire questo. Ma meno, però l'informazione sta andando bene e ci siamo un po' accorgso di persone. Nu, devo vedere sia per ogni caso in questo paese, quando a un certo momento è attenzion per la vacuna, o per la vacuna essere meno. E poi invece, il nostro cammino, noi abbiamo sapevo come un paese, e poi devo vedere quanto è attenzion per il virus essere meno. E l'oginamente ora è attenzione per la vacuna. E così è un po' E' un'enferio che abbiamo, ora abbiamo bisogno di fare un'alerta, ma è proprio così, per farlo più di protezione possibile. Nel caso, abbiamo bisogno di meno influenza per il tucco che sta succedendo. E io ho bisogno di fare un'appellazione per le persone alle mesi. E devo assumirti la responsabilità, devo assumir, questo devo fare bene, bene se è necessario, ora vi ho bisogno di fare una camminata. E sicuramente, solo per farlo completamente a la vacuna, e sicuramente il gruppo non l'aggono di essere vulnerabili, solo per il passaporto di Alprec, non ci sono sempre in quadro, non ci sono passando troppo regolari, non ci sono sempre in liquido, ma solo per la persona che sia il più migliore di protezione possibile. Il gruppo è stato un lavoro estupendoso con il viso, arriva già e donando tutte le informazioni. È un progetto di nostra base di Ronte AFF, nella nostra viso, con la scuola, per i nostri vecchi giorni, camminano per i Bini, e ci sono sempre in quanto a la planificazione.